dai che ce la devo fare dai i baffetti a forma di batman bella lì amici del tubo con il vostro Nicarg e siamo qui con The Screecher, una mod di Don't Starve un ringraziamento al gentilissimo ragazzo che mi ha regalato Don't Starve ora mi sfugge il nickname Chidovenia se stai guardando questo video puoi anche segnalarmelo qui sotto nei commenti ti aggiungerò la descrizione come ringraziamento perché è davvero un bellissimo gioco ora proprio il nickname mi sfugge dovrei andare a controllare poi un'altra cosa sì, un saluto a Thunderwolf che mi ha raccomandato questa mod e adesso la proveremo già, vedete? sono col mio pigiama addosso pronto per andare a dormire ma, ma, ma eh, qui non si dorme perché vivremo l'incubo di The Screecher ok, possiamo anche iniziare sono al buio così me la farò addosso veramente Build Creek, gennaio dell'86 spero che si veda bene la webcam non vorrei cos'era quel suono? I should go check it out questo mi sa che sono io ciao la visuale è da dietro non è dall'alto come su Don't Starve Launchback vediamo che c'è qua dentro I can't wait here anymore I'm going to try to call the helicopter I left my flashlight for you see you soon Sarah Aki vs The World che sta giocando a Dark Souls un saluto da Aki ciao Aki bella ho saputo che anche è riuscito a recuperare la ki di Dark Souls meno male quindi chissà, magari in futuro potremo fare qualche video insieme anche a Seba Cantastoria dove ci scanneremo di mazzate ok, ho trovato le batterie e ho trovato oh, la torcia posso accendere la torcia col tasto destro ottimo light campfires to conserve battery eh, è già andiamo a vedere cosa c'è oh, c'è un sentiero sa molto di slender sta cosa, eh un bivio oh, qua jackets mi fotto la jack è distrutta e un letto con la mappa free helicopter transport vediamo la mappa ok qua sotto vediamo il mio campfire quindi presumo che devo andare a a sinistra vabbè oddio vediamo che c'è di qua ohioioioi già si sente l'attenzione no, no, non c'è niente non c'è niente non c'è niente ah, qua, qua, qua cos'è sto cartello i can follow i can follow these signs to the other path già oddio no, non fare così che mi fai paura ciao calmati non c'è bisogno di fare queste cose l'elicottero ci ha lasciato qua questo posto è bellissimo e la guida turistica sembra molto carina it's so peaceful out here out near near come che aspira è scritto beh no one around it for miles ottimo siamo isolati dal mondo perfetto che c'è di qua che c'è di qua che c'è di qua che c'è di qua la 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 finisco la batterì perché chi me lo fa fa e mi sto cagando a tosso la 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 oh abbiamo dato il fuoco per prima cosa accendere il fuoco devo risparmiare la batteria ottimo poi qua che c'è una batteria la scatola la scatola prima era trattata 9 gennaio questo invece 12 gennaio sembra che le cose si stiano mettendo maluccio vediamo sto tizio qua che c'ha da dirmi Marcello ma che siamo di fuori ma che siamo pazzi mi volete mi volete vedere morto si volete fregarmi il canale volete uccidermi così otterrete il possesso del canale eh oddio ho rischiato la morte devo scrivere il testamento per decidere chi lasciare in eredito il mio canale in caso muoia di infarto facendo questo video qua c'è della monnezza niente qua c'è uno zaino tutta spazzatura niente qualcosa si sta potrefacendo là dentro che schifo perché ho la sensazione che mica per un infarto fa fra poco sto cercando un po' però non c'è niente non so immaginare che succede se mi finisce la batteria madonna madonna ragazzi comunque questa mod è gratuita per tutti quelli che hanno il gioco Don't Starve su Steam se non ce l'avete vi consiglio di comprarlo perché è un gioco da non guardarlo è come slender praticamente empty non posso usare niente di questa faccia forse qua si può accendere qualcosa ah no è una fontana io ve lo dico non vi aspettate che questo video duri a lungo perché qua io mi cago addosso rage quit me ne vado qua lo dico qua lo non ho rage quitto scher quitto scagats quitto mi levo ciao 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 mi levo dai maroni ciao ciao gg bill 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 è morto e anche la coppia brasiliana che si era persa prima non è morto è morto sì bill è morto e anche la coppia brasiliana che bello è morto con la coppia non è morti che si è morti non è morti non è morti non è morti la momo un saluto alla momo che mi ha fatto prendere un infarto dopo di linkerò il video così riderai dell'infarto che mi ha fatto prendere si un saluto cara allora buonino bello santissimo metto la vibrazione per evitare di morire ancora e vediamo cosa c'è di qua dell'ipad ottio bono dio bono facendo subito il fuoco che devo risparmiare batteria via bello un pacchetto di batterie sono tornato all'ottanto basta ste cose improvvisi io sono vecchio fra qualche giorno faccio vent'anni sono vecchissimo ormai il cuore ormai non regge più dà la caccia a quelli che guardano si sto guardando sto guardando oddio bonino oddio bonino sto accendo il fuoco oddio il rumore oddio dai forse coraggio oddio oddio uuuu 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 sto mettendo la pausa ogni 2 lo sapete ma lo sapete lo sapete lo sapete il mio approccio questi giochi si è mangiata era la tizia di prima si è mangiata la tizia di prima lo scrivere si è mangiata la tizia di prima oddio mi ha fatto anche lo screamer sullo schermo pezzo oddio 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 oh my goodness garbage bag eh questo non deve essere munnezza ho spento la luce d'istinto aspetta la luce sono un caghera non lo voglio vedere non me lo fate vedere sto mostro il solito cartello oh porca qualcuno ha mestruato qua che schifo non me lo fate vedere sto cosa no che già mi pia male mi pia malissimo un vasone un ciacciottone oddio i need to get out of here si 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 giusto hai ragione oddio tutti morti questo mi è in cura questo fra poco mi fa l'inculino mi mette a 90 e mi è in chiappetta e questo mo oh god oddio è lì 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 questa è la guida è la guida è la guida è la guida no io me ne vado basta Ч? Ci si becca ai THENAX Io me ne voglio Lì PAD di là Dov'è l'infarto A non posso mettere pausa Non posso mettere pausa Bastardi Radio Forse posso radorare qualcuno Non radorare nessuno Che devo accendere? Non so che devo accendere Il generator Non so dove Che è sta roba? Questo è il generator Dimmi Sì sì è questo È questo Accenditi 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 tutto Bravo Oddio Posso andare via? Voglio andare via da qua Quando mi vengono a prendere? No 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 Ah è finito così È finito così Ah 8 di 9 Non l'ho presi tutti Eh vabbè Eh vabbè Che finale del manga Vabbè Io Annuncio con Gaudio Che questa è la fine del video Scusate Stavo digerendo Niente Vi invito a provare questa mod E altri che trovate nello workshop Di Steam di Don't Starve Un saluto da parte del vostro Nicarg Ci vediamo alla prossima E Non mi consigliate più giochi così Io voglio vivere Non voglio crepare subito Eh Ho tante cose da fare ancora nella vita Tanti video da fare Ok? Vabbè Questo è tutto per ora Un saluto da parte del vostro Nicarg Ci vediamo alla prossima Statemi bene Ciao belli Woo